Bene, allora dottoressa di che cosa ci parlerà durante questa giornata tematica? Bene, parlerò del ruolo dell'expertise scientifico che è diventato soprattutto in questi ultimi decenni sempre più rilevante. In qualche modo gli esperti sono coloro che hanno acquisito e stanno acquisendo un ruolo cruciale all'interno del processo e anche nell'accertamento di quella che viene definita una verità processuale. Sembra quasi che attraverso la testimonianza degli esperti, ad esempio negli Stati Uniti ma anche in Europa, si possano conseguire degli elementi di prova autentica rispetto a quelli che sono i casi processuali. In realtà vorrei mostrare come la realtà è assai più complessa e mostra anche delle ambiguità rispetto a quanto possa apparire prima face. Ecco, l'expertise scientifico in buona parte è un'expertise che risente di una costruzione all'interno del processo e il ruolo degli esperti va decostruito per poter comprendere effettivamente quale sia il ruolo delle loro testimonianze all'interno dell'attività processuale. Grazie a tutti.